La cardiologia di Salus Hospital GVM, siamo con il responsabile, il dottor Giovanni Adornini. Ecco, vediamo com'è inserita all'interno di questo ospedale privato. La nostra cardiologia è una cardiologia che si collera e si correla direttamente con la unità funzionale di cardiochirurgia, di cui è parte integrante. Noi cardiologi qui a Salus Hospital ci occupiamo sostanzialmente dell'assistenza al paziente operato, quindi cardioperato, sia nelle fasi preoperatorie che poi nella degenza postoperatoria, che chiaramente prevede tutta una serie di attività che nella maggior parte dei casi facciamo noi cardiologi, che comprendono sostanzialmente l'attività di tipo clinico e attività di tipo sostanzialmente esami diagnostici, quali ad esempio l'icocardiogramma che noi facciamo con una certa periodicità. I pazienti generalmente una volta che sono dimessi qui da noi, vengono poi avviati ai centri di riabilitazione qui della nostra provincia, con accordi chiaramente già presi tra le varie, tra la struttura nostra e le strutture periferiche, che per poi proseguire l'iter riabilitativo che è altrettanto importante per quello che riguarda sostanzialmente la conclusione del percorso del paziente cardioperato, che è quello chiaramente di avere poi un reintegro del paziente all'interno della vita normale, della vita sociale di tutti i giorni. Ecco dottore, un tema ovviamente che sta a cuore di tutti noi è quello della prevenzione, un tema che anche la medicina sta sviluppando, spesso con percorsi originali. Cerchiamo di dare qualche indicazione a chi ci ascolta. Guardi, credo che lavorare in un posto come questo, in cui chiaramente si parla di cardiochirurgia, da cardiologo ci si renda conto davvero di quali sono gli effetti dannosi sul sistema cardiovascolare, soprattutto dei fattori di rischio. Noi sappiamo che i fattori di rischio sono molteplici, alcuni di questi fattori di rischio non sono modificabili ovviamente, perché tra i fattori di rischio c'è la familiarità, su questa purtroppo non si può intervenire. Su molti altri fattori di rischio invece sì, ricordiamo ad esempio l'ipertensione, ricordiamo il diabete, ricordiamo il colesterolo alto, quindi le dislipidemie in generale, e ricordiamo anche il tabagismo, quindi il fumo. Quindi vedere da vicino gli effetti che a volte sono veramente, estremamente importanti sul paziente, i danni che questi fattori di rischio fanno sul paziente, è un invito ancora di più a tenere d'occhio quelli che sono appunto i fattori di rischio. Quindi alimentazione corretta, attività fisica fondamentale, ecco perché quando parlavo prima di riabilitazione, l'importanza della riabilitazione è intesa come proprio proseguire il percorso riabilitativo anche a casa, quindi con attività fisica fatta con una certa regolarità, nel paziente che ha avuto problemi cardiologici, in chi non li ha avuti chiaramente è l'attività fisica oramai considerata un intervento terapeutico, quindi attività fisica fatta anche qui con una certa regolarità, è ovvio che l'attività preventiva è fondamentale.